Se siete amanti della vacanza attiva, nelle Marche trovate davvero tutto. Trekking, passeggiate a cavallo, canoa, diving, arrampicata, parapendio, percorsi speleologici e naturalmente la bicicletta. Per una vacanza all'insegna del divertimento e del benessere, quest'anno scegli Le Marche. Oh, poi se dopo aver fatto tanto sport volete anche rilassarvi, mica è peccato, eh? Da noi non manca niente. Scopri tutte le info su www.turismo.marche.it Le Marche, il mondo in tasca. Grazie.